Risultati positivi e in continuo miglioramento per l'Università del Molise. I dati sono stati resi noti in una conferenza stampa durante la quale il rettore dell'Ateneo molisano, Gian Maria Palmieri, ha fatto un bilancio sui corsi di laurea, sulle immatricolazioni e sulle attività di ricerca. Corsi di laurea nuovi e all'avanguardia, che hanno riscosso grandi interessi tra gli studenti, sono stati quelli di scienze turistiche ad indirizzo enogastronomico di Termoli e quello sulla sicurezza dei sistemi del software con sede a pesca. Incremento registrato per Biologia, mentre una ripresa del 21,8% cessata per il Dipartimento di Economia. Si mantengono costanti invece le facoltà di Medicina, Informatica ed Agraria. Soddisfazione per il numero degli immatricolati per l'anno accademico 2016-17, che ha totalizzato il 13% in più di studenti rispetto allo scorso anno. Direi che il dato delle immatricolazioni è un dato oggettivo, quindi prescinde totalmente dalla individuazione di un criterio che di per sé è arbitrario. Quindi un dato oggettivo è un dato di grandissimo significato, perché è un dato in controtendenza, è un dato più 13%, è un dato veramente molto significativo, che attesta e conferma ancora una volta come si possa fare bene università in questo territorio. Quella dell'Università del Molise, dunque, si conferma come una realtà viva che abbraccia territorio, cultura e qualità dello studio. Diverse le new entry tra i docenti. Dall'estero sono approdati i docenti di storia contemporanea, di filosofia e di pediatria, mentre dal circuito accademico italiano arrivano in Molise nuove docenze, nel settore aziendale, tributario ed economico. Parallelamente agli aspetti di crescita, si lavora costantemente per potenziare il comparto di ingegneria, oggi interfacoltà con l'Università di Benevento. C'è sempre da fare, guai a pensare di potersi cullare su degli allori. Per esempio, stiamo lavorando per rafforzare la nostra capacità di formazione e di attrattività nel comparto ingegneristico. Novità è l'area di Agnone, che verrà vissuta come polo per convegni, seminari e corsi di aggiornamento specialistici. L'Università del Molise, che può contare su un fondo di circa 29 milioni di euro, risulta essere un punto di forza per la regione, per la qualità dei servizi che incontrano l'alta qualità del territorio. Sì, siamo al 45esimo posto, ogni anno facciamo un passettino in più in questa classifica per quello che può valere del sole 24 ore, ma penso che ci siano le condizioni per fare un bel balzo in avanti. Magari fra tre anni ci sveglieremo e nella classifica del sole saremo, non voglio dire nella top 10, ma nella top 20. Il prossimo appuntamento con l'Università del Molise è fissato per il 10 marzo prossimo, con l'inaugurazione dell'anno accademico. Ospite dell'evento sarà il presidente della Camera, l'onorevole Laura Boldrini. Grazie. Grazie. Grazie.